Ciao ragazzi e amici, voglio ci farei vedere un effetto veramente carino, uso mazza di carte regolari, questa lo sapete, non uso mai carte truccate. Ora, proviamo a fare una cosa interessante, abbiamo una carta a caso, ok, libera, giochi, si vede, giochi, 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 giochi. Guardate una cosa interessante, watch now, non c'è fili, non c'è niente, tutto esaminabile, niente, non ho fili, niente. Guardate una cosa interessante, guardate una cosa interessante, videocmánica schienка, giochi, 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 giochi. Grazie a tutti.